Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di true crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, mi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Il brutale omicidio di una donna innamorata di un uomo disturbato, violento, la cui mente gli fa compiere atti assurdi, di un uomo già condannato per omicidio, di un uomo già ricoverato in istituti psichiatrici giudiziari, ma lasciato libero di seminare altra follia. Oggi vi racconto la cronaca di una morte annunciata, vi racconto la storia di Federica Giacomini. Federica condivideva sulla pagina Facebook del suo alter ego, Ginevra Hollander, un post proprio poco prima della sua scomparsa, che letto ora mette proprio i brividi. La scomparsa di Federica Giacomini, una donna di 42 anni, è emersa soltanto il 14 febbraio del 2004, quando il suo compagno, Franco Mossoni, ha fatto irruzioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza. L'uomo, vestito con anfibi, tuta vimetica e giubbato antiproiettili, ha minacciato il vigilante all'ingresso dell'ospedale e poi ha seminato il panico nei riparti, gridando frasi sconnesse e senza senso, scappando poi sulla sua Fiat Tipo, che non aveva il sedile del passeggero, al suo posto aveva messo un asdraio. L'uomo è stato rintracciato subito nei pressi della sua abitazione, che si trova sempre a Vicenza, in Via Vedeschi, ed è stato trasportato in un ospedale psichiatrico giudiziario. Dopo il suo arresto è emerso che l'uomo di 55 anni, originario di Maligno, in provincia di Brescia, quando aveva 22 anni, nel 1978, aveva già ucciso un uomo, l'idraulico del suo paese, paese in cui suo padre era sindaco. Gli aveva sparato con un'astra 38, uccidendolo. Sarebbe stato il suo presunto rivale in amore. Per quel omicidio aveva scontato una lunga condanna, dopo un anno di latitanza. Da allora la vita di Mossoni era costellata da guai giudiziari, e l'uomo aveva fatto avanti e indietro tra carcere ed ospedali psichiatrici giudiziari. Un uomo disturbato, la cui mente gioca brutti scherzi, gli fa compiere gesti assurdi, come quello di una rapina compiuta con una parrucca enorme. Mossoni era solito traversirsi e cambiarsi d'albito. In seguito al ricovero del Mossoni, dopo quell'irruzione all'ospedale San Bortolo di Vicenza, gli inquirenti perquisiscono il suo appartamento, dove trovano centinaia di fogli che riportano frasi deliranti, una pistola giocattolo, due balestre, un'infinità di coltelli di tutti i tipi, diversi flaconi di medicinali e diversi flaconi con sostanze chimiche. All'interno di quell'appartamento, però, gli inquirenti fanno una scoperta che gli fa suonare un campanello d'allarme. Scoprono, infatti, che l'utenza del cellulare del Mossoni e il contratto d'affitto di quell'appartamento sono intestati ad una donna, Federica Giacomini. Donna, però, che non è rintracciabile, non la trovano. Nell'appartamento trovano anche i suoi abiti e dei suoi documenti, ma di lei nessuna traccia. Viene interrogato così il Mossoni, che però risponde in modo vago, dicendo di aver avuto una relazione con Federica, ma che era terminata e che non ne sapeva nulla. Gli inquirenti cercano in tutti i modi di rintracciare Federica, che risulta però sempre irreperibile. Il 5 marzo, i genitori di Federica, preoccupati del fatto che lei non risponda agli sms e alle telefonate, sporgono denuncia di scomparsa. I due anziani conugi erano convinti che la figlia abitasse ancora in uno stabile ad esenziano del Garda, ma vengono avvisati dal custode che la figlia aveva abbandonato lo stabile già a partire dal maggio del 2012. Tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, Federica va a vivere insieme al Mossoni in un appartamento in affitto in Valpolicella, in Via Loera, a Corrubbio. I genitori erano preoccupati perché avevano sentito per l'ultima volta la figlia tramite un sms il 1 gennaio, un sms in cui la figlia augurava un nuovo anno ricco di pace e serenità. L'avevano vista di persona l'ultima volta il 30 di dicembre ed erano quindi preoccupatissimi, vivevano nell'angoscia. È in questo frangente che i genitori scoprono la seconda vita di Federica. Scoprono che è un'artista di spettacoli per adulti, che è una pornostar, che si esibisce con l'alter ego di Ginevra Hollander. I genitori rimangono sconvolti da questa notizia, soprattutto perché la figlia è sempre stata una persona molto riservata e timida. Federica era stata sposata con un ispettore, che però non le era fedele, e dopo aveva intrecciato una relazione con Franco Mossoni, definito da sua madre come peggio di una bestia. Il 55enne aveva una relazione con Federica da otto anni. La donna si era innamorata di lui per via della sua particolare personalità, a cui però aveva nascosto e dissimulato per bene i suoi problemi psichici. Federica andava a trovare Franco tutti i giorni all'ospedale psichiatrico, dove era stato ricoverato dopo una lite. La 42enne ha scoperto sulla propria pelle la violenza di quell'uomo, che la picchiava, la maltrattava e pretendeva da lei i soldi che guadagnava con la lap dance e con i filmini hard. Ma perché una donna come Federica, bella, intelligente e con una solida famiglia alle spalle, è rimasta insieme a quell'uomo, non ha lasciato Franco? Secondo le sue amiche, Federica era innamoratissima di quell'uomo, di quell'uomo che però era malato e che non sarebbe dovuto essere lasciato libero. Un'amica di Federica, molto preoccupata per lei, ha contattato la trasmissione televisiva Chi l'ha visto, raccontando di non aver più notizie dell'amica dal 9 di febbraio, quando l'aveva sentita l'ultima volta e l'aveva sentita molto turbata. La donna ha raccontato anche che nell'autunno del 2013 aveva ospitato Federica dopo che era fuggita in seguito a un litigio violento con Franco Mossoni. Un litigio durante il quale l'uomo l'aveva piecchiata così forte da far temere a Federica per la propria vita. La vicenda suscitò un forte clamore mediatico, soprattutto per via dei sospetti che nacquero subito nei confronti del suo convivente di Franco Mossoni e fu proprio guardando una di quelle trasmissioni televisive che un barcaiolo del lago di Garda riconobbe il Mossone. Il barcaiolo racconterà di essere stato contattato proprio da quell'uomo che diceva di essere un biologo e di chiamarsi Franco Falcano. L'uomo aveva con sé una cassa di circa un metro e quaranta che diceva essere una sonda marina e diceva di aver bisogno di inabissarla nel lago di Garda per poter effettuare degli esperimenti scientifici. Dalle indagini effettuate dagli inquirenti è emerso che Franco Mossoni aveva eseguito tutta una serie di spostamenti proprio da Coriano al lago di Garda e proprio con una cassa che aveva trasportato nella sua auto rimuovendo proprio il sedile del passeggero. Un altro elemento che aveva fortemente insospettito gli inquirenti è stato il ritrovamento dell'auto di Federica un Opel Tigra. Mossoni aveva avuto infatti un incidente quando era a bordo dell'auto della sua compagna. Era andato a sbattere contro un cancello di una villa a Pescantina in Viale Verona. L'uomo quel giorno stava guidando così forte che quando ha imboccato una rotonda aveva perso il controllo dell'auto finendo su quel cancello. L'uomo inizialmente aveva preso accordi col proprietario della villa per risarci loro ai danni e sembrava una persona seria ed equilibrata fino a quando si è capito che Mossoni non aveva la minima intenzione di risarcire il danno ed aveva mandato a quel paese il proprietario della villa. Quello Opel Tigra senza bollo e assicurazione era rimasta parcheggiata per mesi davanti a casa in uno spiazzo e al suo interno c'erano degli attrezzi da lavoro. Degli attrezzi di Mossoni che non si è mai capito in realtà che lavoro facesse perché a volte diceva di essere un operaio e a volte diceva di essere un idraulico. il 17 giugno del 2014 a Brenzone sul lato veronese del lago di Garda è stata recuperata quella cassa di plastica dai sommozzatori della polizia e al suo interno c'era un cadavere avvolto da del cielo fan nero avvolto dal nostro adesivo. La cassa si trovava a una profondità di 100 metri e le ricerche sono durate per giorni sono state effettuate con l'utilizzo di strumentazioni scientifiche e di ecoscandagli la zona del lago è stata mappata e scandagliata fino a quando la strumentazione ha rilevato la cassa e la possibile presenza di un cadavere una volta recuperato il corpo questo è stato trasferito presso l'istituto di medicina legale di Padova per gli opportuni controlli il riconoscimento del cadavere è avvenuto il 18 giugno il giorno successivo da parte del legale della famiglia di Accomini il cadavere è stato riconosciuto principalmente dal fatto che Federica aveva una menomazione ad una mano infatti non aveva una falange del quarto dito della mano destra una menomazione che aveva fin da quando era giovane dall'autopsia è emerso che la donna è morta a causa di gravi lesioni alla testa è stata colpita più volte con violenza ha subito diverse fratture ed è morta per il trauma cranico Federica è stata colpita con un oggetto duro stretto e liscio la svolta nelle indagini intanto sarebbe arrivata dal cellulare di Franco Mossoni che risulta presente più volte a Brenzone dove tra l'altro a febbraio si sarebbe fermato anche per un soggiorno di tre giorni in un piccolo albergo l'uomo si era anche fatto vedere in paese dove diceva a tutti di essere un biologo e di aver necessità di noleggiare una barca per fare degli studi e delle ricerche l'uomo ha noleggiato uno scafo e si è diretto a largo proprio in un giorno in cui il lago era in tempesta per gli inquirenti proprio il tempo perfetto per chiudere quell'efferrato diritto l'analisi delle telefonate evidenzia momenti in cui Mossoni e Federica si telefonano quando già stanno vivendo insieme in quella casa Vicenza a volte si telefonano da luoghi distanti a volte si telefonano da luoghi molto vicini in particolar modo a gennaio c'è un momento in cui Mossoni chiama con insistenza Federica che risulta però essere nella stessa cella da cui parte la telefonata del Mossoni a Pescantina questo fino al 19 gennaio giorno in cui il cellulare di Federica diventa muto e non si riattiva più quando Mossoni torna a Vicenza il suo telefono attivo mentre quello di Federica no sempre dall'analisi dei tavolati telefonici del Mossoni risulta che proprio tra fine gennaio e inizio febbraio che è proprio il periodo in cui Federica scompare l'uomo cerca ossessivamente di mettersi in contatto col barcaiolo di Brenzone quel barcaiolo che non è mai stato indagato era talmente convinto di aver aiutato veramente un biologo nelle sue ricerche che quando è stata estratta quella cassa dal fondo del lago è rimasto veramente esterefatto rispetto alla morte della sua compagna a processo Mossoni dichiarerà che lui aveva avuto la visione di tre albanesi che lo stavano aggredendo e che quindi si era difeso con un martello ma che poi si era ritrovato con il corpo tra le braccia di Federica con il cranio sfondato e allora era andato lungo il fiume a piangere e a sperare che la donna ritornasse in vita ma una volta ritornato nell'appartamento Federica era ancora morta e allora lui dice di essere rimasto con lei sul divano per un giorno e mezzo a guardare la televisione e mentre guardava una trasmissione sul mare si era convinto di essere un biologo marino e che la sua compagna fosse una sonda per l'analisi degli oceani e a quel punto sarebbe uscito di casa per costruirsi la sua cassa per ricerche oceaniografiche così assumendo lo pseudonimo di Franco Flacan aveva contattato il barcaiolo per portarlo a qualche centinaia di metri dalla riva di Brenzone e scaricare in acqua la sua cassa che sarebbe stata poi ritrovata quattro mesi dopo al funerale di Federica celebrato a Vigonza c'erano rose e gialle sulla sua bara e pochi amici e parenti riunite attorno alla famiglia stretta nel dolore il parroco Don Cornelio Boesso durante la funzione prima che la salma venisse trasportata al cimitero di Cardoneghe ha speso qualche parola per ricordare la fine brutale e violenta che ha strappato Federica a mamma e papà e all'intera comunità presenta al funerale anche il sindaco di Cardoneghe Nunzio Tacchetto la data di morte di Federica è stata fissata nel 17 giugno giorno in cui è stata estratta da quella bara in fondo al lago il movente di questo terribile delitto paressia la decisione di Federica di lasciare il suo compagno dopo oltre otto anni di relazione Mossoni sarebbe stato spinto proprio dalla paura di perdere questo legame sia affettivo che economico che aveva con la donna lucido sistematico e per nulla incoerente questo è il profilo che emerge di Franco Mossoni dalla sua sentenza per il giudice sia l'omicidio che l'occultamento del cadavere sono stati eseguiti con lucidità e con programmazione e anche il modo in cui è stata uccisa Federica con quella ferocia dimostra che dietro quel gesto non c'è un raptus ma un odio un livore che è stato sfogato sulla donna l'indole violenta e l'assenza di rimorso dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio la pericolosità del Mossoni lei lo voleva lasciare dopo un lungo rapporto caratterizzato da litigi e contrasti lui l'ha ammazzata colpendola alla testa per poi chiuderla in una cassa e gettarla in fondo al lago con la sentenza del 7 aprile del 2017 la corte d'assise di Venezia ha fondamentalmente confermato la sentenza del 9 settembre 2015 del giudice per l'udenza preliminare di Verona la condanna per Franco Mossoni è a 20 anni di reclusione più altri 10 anni da scontare in un istituto psichiatrico giudiziario quindi la condanna totale e ha 30 anni a Mossoni è stato riconosciuto un vizio parziale di mente l'uomo è stato dichiarato capace di intendere ma non di volere ed ha potuto usufruire del rito abbreviato ai familiari è stato riconosciuto un risarcimento di 200.000 euro ma ai due anziani genitori nessuno potrà mai restituire la loro figlia i coniugi fanno sapere tramite il loro legale che loro non sono interessati a sapere quanti anni di reclusione dovrà scontare il Mossoni ma vogliono essere sicuri che l'uomo non possa più far male a nessun'altra donna come è successa alla loro figlia i genitori hanno fatto sapere di voler chiedere anche un risarcimento civile nei confronti delle istituzioni che hanno dichiarato sano Franco Mossoni prima che lui ci desse in quel modo Federica Giacomini mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse io vi aspetto sempre qui sempre domenica alle 10 un bacione ciao